Continuiamo a parlare di David Beckham con Barbara Ricci che è tornata a trovarci. Ciao Barbara, ben ritrovata. Ciao Marina, buongiorno, grazie. Presidente Sport Why, ma ci devi parlare di Beckham perché? Dai, raccontami. Sempre interessante, ma oggi è l'uomo del giorno. Dopo l'annuncio di lunedì che il primo dicembre la finale con il Galaxy sarà la sua ultima partita con il Galaxy, i media sono impazziti con le varie ipotesi di cosa succederà, dove andrà, smetterà. Tanto c'è da dire che l'esperienza americana di David Beckham è stata molto importante, è durata sei anni, quindi comunque non è stata una passerella ma un impegno vero. Lui è arrivato al Galaxy che era ancora abbastanza giovane, aveva 31 anni e ha dato molto al calcio americano che dobbiamo tenere presente è una cosa completamente diversa dal calcio europeo, lo sappiamo, ma insomma è bene ricordarlo. Negli Stati Uniti il calcio è uno sport minore, è molto uno sport femminile, lo praticano molto le ragazzine, tra l'altro con modalità diverse che da noi, si ritrovano in campi all'aperto, il sabato pomeriggio, eccetera. Per esempio quando lui è arrivato in America, a Los Angeles, c'erano solo cinque squadre della Major League che avevano uno stadio dedicato al calcio, le altre giocavano, si allenavano in campi destinati ad altri sport, quindi anche questo oggi sono 19, quindi si può capire anche come ci fosse una volontà da parte della Major League di puntare su questo sport. Lui ha chiuso questa stagione bene perché è stata la stagione in cui ha fatto più gol e quindi lui dice di essere in forma ed è abbastanza vero anche se ha 37 anni e quindi sono aperte un po' di ipotesi sul suo futuro. Lui è stato un grande personaggio del mondo del calcio per i risultati, sul campo, per la sua bravura, però è stato anche uno dei primi a sfruttare la sua immagine a livello pubblicitario, è stato molto bravo lui in questo. Sì, molto molto bravo, uno dei primi e anche in questo momento probabilmente il migliore, ricordiamo un po' di dati, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa, dei dati sulle classifiche di Forbes, sui personaggi dello sport più famosi e più influenti del mondo e David Beckham è all'ottavo posto tra gli sportivi e al sesto posto come influenza nel social. Qui ora stiamo vedendo delle immagini di un backstage di uno recente spot. Lui in questo momento ha fuori due campagne molto importanti, che sono la campagna per l'intimo di questo grande gruppo di abbigliamento low cost che l'ha ingaggiato per una linea di abbigliamento intimo, in verità è un pretesto per averlo come testimonial, anche abbastanza spogliato, del loro marchio a livello internazionale. Questa campagna è straordinaria dal punto di vista del marketing per vari motivi. A una prima analisi può sembrare quasi una diminuzione, il fatto che Beckham prima che per questo marchio sia stato testimonial di Giorgio Armani, si può dire, insomma lui era testimonia dell'intimo di Giorgio Armani. In verità questa è una campagna mondiale che è stata lanciata nella finale di Super Bowl la scorsa stagione davanti a 111 milioni di spettatori e questo dà un po' la dimensione pianificata in tutto il mondo e all'inaugurazione, alla presentazione di questa terza linea che lui ha fatto, terza collezione a Londra c'era l'arresta fuori dal magazzino, c'erano statue di bronzo, ecco esatto, queste sono le immagini, queste statue di bronzo o simil bronzo a sua immagine e somiglianza. Di lui in Underworld. Esatto, esatto, esatto. L'altra campagna che è fuori in questo momento è sempre una campagna mondiale di un marchio di orologi e poi lui è testimonial, è testimonial di un grande gruppo di distribuzione di supermercati inglesi, è testimonial della Samsung e questo anche ci fa capire un po' quali sono poi i retroscena di certe decisioni. Lui quest'anno è stato l'uomo immagine delle Olimpiadi, ha inaugurato le Olimpiadi di Londra, questo non sarebbe potuto accadere se lui non fosse stato testimonial della Samsung, che era uno degli sponsor principali delle Olimpiadi. Poi è chiaro che al pubblico queste informazioni non arrivano, giustamente si vede il calciatore inglese che inaugura le Olimpiadi di Londra, ma dietro c'era comunque un potentissimo marchio di elettronica, la Samsung. Samsung che ha puntato su di lui durante le Olimpiadi per una campagna per il lancio del tablet Galaxy, per l'appunto, e allora anche qua poi bisogna pensare al marchio Galaxy, eccetera. Ed è suo sponsor dai tempi del Real Madrid. Grande uomo immagine, allora sembrerebbe che uno così ha già anche il futuro come uomo marketing assicurato, ma c'è idea su cosa farà? Dicevi prima, si è scatenato un po' un toto. Quale sarà il futuro di David Beckham? Ma si sono lette molte cose in questi giorni, tra cui il fatto che lui possa abbandonare il calcio, vista anche tutte queste attività, visto anche che ce ne sono ancora molte altre, potrebbe tranquillamente fare l'attore, varie ipotesi. Io non penso che lui lascerà il calcio perché, l'ha detto lui stesso, si sente molto in forma, e anche perché lui aveva un biennale con il Galaxy, non sono intervenuti infortuni, anzi, come abbiamo detto, questa stagione è stata una stagione abbastanza buona, per lui si giocherà la finale del loro campionato, per la seconda volta di fila. Quindi io credo che l'interruzione col Galaxy sia perché ci sono altri progetti, e credo che non possano essere squadre di primo livello, come si è parlato in queste ore del Paris Saint-Germain, non possano essere squadre di questo tipo, perché se la scelta già sei anni fa è stata di un progetto più legato alla comunicazione, all'immagine, allo sviluppo anche di uno sport in un determinato territorio, non credo che dopo sei anni si possa ripartire da riproporre Beckham. Quindi penso che l'Australia potrebbe essere un'ipotesi molto concreta, sia per quello che abbiamo visto fare negli ultimi due mesi ad Alessandro Del Piero, e io ho potuto seguire da vicino il trasferimento di Del Piero a Sydney, e seguire un po' delle sue attività che sta facendo in questi mesi, il progetto che ha affascinato Alessandro e che ha fatto sì che lui scegliesse di andare là, anziché scegliere altre ipotesi in Europa, è proprio tutto il progetto che c'è dietro, l'investimento che la A-League ha fatto su di lui, oltre che ovviamente il Sydney. Alessandro appena è arrivato a Sydney ha girato due spot molto significativi, uno è proprio lo spot promozionale della A-League, anche qua c'è dietro comunque lo sponsor del campionato, che è un marchio di automobili, è quello che intravediamo, esatto questo, molto suggestivo, e l'altro spot è per la Fox, che ha utilizzato subito Alessandro Del Piero, come fate spesso anche voi, come simbolo della programmazione calcistica sulla loro rete. e quindi penso che per Beckham ci potrebbe essere uno spazio molto interessante in Australia, tenendo anche conto di un dettaglio che vi lascio così come riflessione finale, la maglia che vedete del Sydney di Alessandro è una maglia Adidas, a me tocca citare spesso dei marchi, ma fa parte del mio lavoro, è una maglia Adidas e lo sponsor personale di Alessandro Del Piero da molti anni è l'Adidas, quindi io credo che in questo trasferimento abbia contato anche questo sponsor, e se vogliamo fare un parallelo con Beckham, Beckham è Adidas ormai da molte maglie, dal Real insomma in avanti, e anche un paio di squadre di cui si è parlato in questi giorni in Australia sono Adidas, quindi penso che un approdo probabile possa essere appunto l'Australia. Insomma la Liga australiana si arricchirebbe ancora di più dopo Del Piero, e anche altri campioni europei che sono arrivati, anche Ischi, o no, diventerebbe davvero molto interessante. Barbara grazie, ci ritroviamo presto giusto con altre notizie, altre curiosità. Anche a tutti.